non parlatemi dei conventi si può imparare di tutto là dentro io pure sono un fiore di convento ma io non pretendo di essere santa ma le monache sì però capite che voglio dire concluse volgendosi a isabel isabel non era ben sicura di capire e rispose che essa non sapeva seguire la discussione la contessa dichiarò allora che essa pure detestava le discussioni ma che queste erano la passione del fratello per me soggiunse uno può amare una cosa o non amarla non si può amare tutto evidentemente ma non si può neppure tentare di farsene una ragione non si sa dove questo possa condurre ci sono sentimenti buoni che possono avere cattivissime ragioni e cattivi che ne vantano di buonissime non vi pare capite cosa voglio dire che so quel che mi piace ma che non mi importa nulla di saperne il perché sapere quel che ci piace ecco una gran cosa disse isabel sorridendo e cominciando a sospettare che la sua nuova conoscenza con questo personaggio svolazzante leggero non le avrebbe dato certo una pace intellettuale se alla contessa non garbava la discussione anche isabel vi traeva pochissimo piacere in quel momento e stese la mano a pensi compiacendosi che quel gesto non l'avrebbe esposta a nessuna discussione